Mario Di Lio, quali sono le motivazioni che portano l'Udc in questo nuovo intergruppo comunale? Le motivazioni sono semplici, è un gruppo che continua il suo lavoro iniziato già da tempo per lavorare per il bene della nostra città, in quanto un gruppo di moderati che si unisce negli intenti affinché il lavoro che si fa in Consiglio Comunale sia più di sprono, di fare in modo che questa amministrazione sappia che ci sono cinque persone, che è un gruppo maggioritario all'interno del Consiglio Comunale che stimola le attività di questa amministrazione ma soprattutto la controlla. Se gli altri si accordano su compromessi noi ci siamo ritrovati insieme lavorando quotidianamente in Consiglio Comunale in questi due anni quindi è iniziato un percorso che ci porterà indubbiamente ad unire le forze ad unire i progetti che abbiamo per questa città che nonostante siamo forze di opposizione non smettiamo di proporre alla maggioranza, quindi partiamo dalle idee, partiamo dai progetti che abbiamo per questa città, dopodiché quando ci troveremo a dover tirare le somme saremo già pronti per individuare una squadra di governo ed un sindaco. Con questa conferenza stampa azione politica ufficializza l'uscita dalla maggioranza? L'azione politica coerente con se stessa continua il percorso che già sta portando avanti in Consiglio Comunale e cioè di un'attività propositiva per l'amministrazione votando i provvedimenti che sono a favore della città ed un'opposizione invece che sarà dura laddove ci sono tutti quei provvedimenti che non vanno a beneficio della nostra chiedi. Questa amministrazione per molti risvolti è assolutamente inadeguata ad affrontare le attività di natura ordinaria e straordinaria che sono state già presentate in campagna elettorale su programmi che sono stati completamente disattesi. Per cui azione politica si presenta come propositiva ma laddove questa attività non verrà accettata da parte dell'amministrazione azione politica è pronta all'opposizione come l'è sempre stata. Grazie. Grazie.